Una proposta di legge che prevede sia la possibilità di donare in centri pubblici che in centri privati autorizzati in tutta sicurezza e che si dà anche la possibilità di un connubio virtuoso tra chi sceglie la donazione autologa quindi per sé che eterologa per gli altri per far sì che la donazione del cordone ombelicale non sia più un percorso a ostacoli, per far sì che non sia più una donazione a ostacoli.